Tracce, non c'è dubbio, le ha lasciate la stessa creatura che ci ha attaccati. L'avete sentito? È qui intorno. Lo sento. La belva! Fermi te, sono ancora più infuriata di prima. Che lotta! E quale belva abbiamo abbattuto! Hai mostrato grande coraggio. Grazie per averci aiutato. Predatore o preda, sei ciò che scegli di essere. Arne è stato eroico. E anche tu, certo. Ora possiamo tornare a... Grazie. 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 Grazie.